Buongiorno a tutti. Oggi voglio parlarvi di questi due libri, entrambi editi da Quillan, editrice Quillan, ed entrambi di Jacopo Benassi. Jacopo Benassi è un autore che nel mondo della fotografia contemporanea è emerso con prepotenza negli ultimi anni, affermando quella che è la sua ricerca che conduce ormai da diverso tempo. La sua fotografia è facilmente riconoscibile da un punto di vista estetico. Le sue sono immagini molto forti, molto contrastate. Un bianco e nero che si fa riconoscere, diciamo, a prima vista da un punto di vista della realizzazione e, per esempio, in questa pubblicazione intitolata My Posters presenta una carrellata di ritratti a personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, ma anche, diciamo, persone che ruotano intorno alla cerchia di amicizie dello stesso Jacopo Benassi, tutti trattati allo stesso modo, con la stessa tecnica, con la stessa dirompenza dell'immagine, con la capacità ormai tipica e riconoscibile di Jacopo Benassi di entrare in maniera inaspettata ma in maniera puntuale all'interno delle vite delle persone e restituirle con questa grande autenticità all'interno dei suoi scatti. Come scrive Roberto Maggiori, nell'introduzione appunto di questa prima pubblicazione, il modo di fotografare di Jacopo Benassi a metà strada tra la spontaneità istintiva dei paparazzi degli anni cinquanta e il coinvolgimento esistenziale dei ritrattisti statunitensi, attratti da stili di vita borderline. Mi sembrano tre righe molto efficaci per raccontare il lavoro di Jacopo Benassi che appunto in questo primo libro si presenta così, sono degli omaggi a degli autori per esempio del mondo della fotografia molto affini a lui, per esempio in questo caso Terry Richardson, piuttosto che persone del mondo dello spettacolo come Asia Ragento per esempio in questa immagine della moda appunto dei grandi stilisti, piuttosto che altri che vengono documentati con le caratteristiche che vi dicevo prima all'interno di questa pubblicazione. Ci sono, come dire, delle citazioni anche al mondo della fotografia, oltre a Terry Richardson che abbiamo visto prima, incontriamo di volta in volta anche altri autori. Questa bellissima doppia pagina, il ritratto di Ando Gilardi, un grandissimo diciamo della fotografia sia in quanto autore, sia in quanto astorico e teorico dell'immagine fotografica, viene sicuramente omaggiato e dimostra l'amore di Jacopo Benassi nei confronti di questo personaggio. E così via via la pubblicazione è una carrellata continua di questi di fatto poster, di queste grandi immagini, immagini che in occasione degli eventi espositivi vengono proprio attaccati come poster a ricoprire tutte le pareti del luogo espositivo. Ecco, questa è l'iconografia di Jacopo Benassi, quella che ormai si è affermata ed è molto nota nel mondo dell'immagine, non soltanto nel mondo della fotografia di ricerca e artistica, dove ormai Jacopo Benassi ha un suo posto d'onore, ma anche nel mondo della fotografia legata alla comunicazione, legata alla moda, legata al mondo della musica a cui l'autore ha dato tanto e ha frequentato attivamente. Un'altra pubblicazione, sempre dello stesso editore, sempre di Jacopo Benassi è questa invece intitolata, come vedete qui in rosso, Misculi, e dove appunto nella quarta di copertina si legge che Jacopo Benassi tra il 2000 e il 2011 insta uno rapporto di amicizia e collaborazione con Gianluca Petriccione. Da questo rapporto ne scaturisce la nascita di un personaggio. Ecco, il personaggio prende il nome di Misculi, ispirato a un manga erotico. Un'identità fittizia si legge al tempo stesso reale, nata in seno alla musica punk, alla azione performativa e agli ambienti queer di Milano e di Berlino. Questo è lo scenario in cui noi possiamo andare a contestualizzare questa pubblicazione, le relative immagini. Il libro quindi è dedicato agli anni in cui Jacopo Benassi ha frequentato il mondo della musica, ha frequentato certi ambienti parallelamente in queste due città, Milano e Berlino, dove ha condiviso degli attimi ripetibili con persone che poi sono state documentate all'interno del libro. Anche in questo caso, oltre ad essere molto interessante la ricerca dell'artista, anche da un punto di vista editoriale, così come nel caso precedente, troviamo molta cura e molta capacità di restituire il senso e la modernità, diciamo, del gesto fotografico di Jacopo Benassi. Le immagini, appunto, sempre con questo suo bellissimo bianco e nero, sono pubblicate a tutta pagina e ci permettono di entrare nel mondo di quest'autore. Un mondo che è fatto quindi di rapporti, di amicizie, di frequentazioni, un mondo che è fatto di una vita vissuta, vissuta direttamente, vissuta in prima persona, che attraverso il linguaggio fotografico può essere condivisa, così come era in uso a grandi autori già negli ultimi decenni del Novecento che utilizzavano il mezzo fotografico con questa grande vocazione diaristica. Ecco, Jacopo Benassi sembra quasi riscattare quell'intento, sembra riscattare quella necessità degli autori che usano la fotografia per raccontare qualcosa che proviene dal privato, ma che poi può essere stesa grazie a questo linguaggio a tutti noi, cosa che riesce in maniera particolarmente efficace appunto a quest'autore, anche grazie alla sua fortissima necessità di comunicare poi i suoi progetti, non solo attraverso delle bellissime mostre con degli allestimenti particolarmente curati e originali, ma anche attraverso l'amore per il libro e la capacità di formalizzarlo in maniera puntuale, come ha dimostrato in tutti questi anni. Un caro saluto e a presto.